questa città roma non è una città è una giungla basta vedere che cosa accade dopo qualche mezz'oretta di pioggia si va lungo i torrenti che sembrano le ripide delle cascate perché l'asfalto è tutto andato e forse l'unica città d'italia dove nel suo centro potete trovare cartelli è come quello che tra poco vedremo attenzione dunque alle radici che affiorano dall'asfalto ne fanno delle gobbe ne fanno dei saliscendi delle montagne russe che rendono impossibile passare a una velocità superiore ai 10 20 chilometri orari adesso vi faccio vedere cosa vuol dire radici affioranti che l'asfalto nessuno lo mette a posto vedete in che condizioni è chi per caso arrivando dal lungotevere si infila su queste strade non vede magari il cartello e lo capisce perché c'è un incidente dietro l'altro ma in tanti anni nessuno ha provato a riparare questo asfalto e magari a sopraelevarlo un tantino in maniera che le radici non possono spuntare come delle foglie dal terreno